parte orica sei in servizio? come coni? chi sei oggi? oggi? 4 Evelyn Stevens, grande evidenza al Giro d'Italia donne classe 83, Stati Uniti d'America col numero 5, campionessa del mondo uscente in questa specialità Eleonore van Dijk, Olanda, classe 87 e col numero 6, un'altra ragazza che ha già vinto tanti titoli in carriera è tedesca e nel 1981 arriva da Cottbus Trixie Warrag il nome completo è Beatrix Warrag che è stata anche campionessa d'Europa 2013, Alessandro Brambilla ringrazia il servizio d'ordine io ringrazio questa grande città d'arte e di sport una città di Serie A Pistoia, Mondiali 2013 da Alessandro Brambilla grazie per l'attenzione buon divertimento con i grandi mondiali in Toscana ciao a tutti grazie grazie